Che vuoi? Uomini e donne, Andrea e Arianna spiazzano tutti dopo la scelta Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e donne è stata trasmessa la scelta di Andrea Cerioli. Il ragazzo ha deciso di andare contro le regole del programma e di scegliere, in modo assolutamente inaspettato e anticipato, la corteggiatrice Arianna Cirincione. I due protagonisti, a distanza di un po' di giorni, hanno rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e donne magazine nella quale hanno spiazzato davvero tutti. Uomini e donne, Andrea sceglie Arianna e il pubblico si divide in due. La scelta di Andrea Cerioli è stata davvero fuori dal comune. Il ragazzo ha voluto concludere il suo percorso a Uomini e donne in un modo decisamente inaspettato. La sua decisione ha diviso in due il pubblico. Da una parte c'è chi ha apprezzato la sua genuinità. Mentre dall'altra c'è chi, come Gianni Sperti, ritiene che i due fosse d'accordo da tempo. Ad ogni modo, Cerioli non ha mai dato molto peso alle critiche, pertanto sembra pronto e felice più che mai di intraprendere questa nuova relazione. Uomini e donne, l'annuncio spiazzante di Andrea e Arianna. A distanza di un po' di tempo, Andrea e Arianna hanno rilasciato una bellissima intervista al settimanale di Uomini e donne nella quale hanno fatto un annuncio importantissimo. I due hanno confessato di avere intenzione di andare a vivere insieme. La loro decisione ha lasciato tutti senza parole dal momento che si conoscono da pochissimo tempo. . Andare controcorrente e bruciare le tappe, però, sembra essere una prerogativa assoluta dell'ex tronista. Pertanto, tutte le persone che gli vogliono bene non possono che essere felici per lui e per la sua nuova fidanzata. .